Musica Musica Non solo incontro un nemico Ma sto anche in un coso di asteroidi Così non solo c'è più le botte De più Ecco bravi Spaccatemi tutto già che ci siete Ma mi ha mancato quell'asteroide L'asteroide con la mira al culo C'è più C'è poi Arato proprio Sei morto Ecco adesso sto aspettando che si carichi l'FTL Ovviamente intanto mi prendo le asteroidi nella faccia Guarda se arriva un asteroide e bam Guarda Guarda Dunque Te pareva Ma te pareva pure io Ancora Sono due Già un po' andiamoci Qui di stress va Andiamo a vedere cosa ci aspetta qui Ok Ma che Io rischio e come Le voglio aiutare Perfetto Le ho aiutate i ragazzi già salvati Mi hanno dato 16 scrap Lo schifo proprio Andiamo avanti E non aveva difficoltà che mi chiedeva aiuto Ma io sono andato subito a un pronto soccorso Posso approcci le station Certo che approccio la stazione E te pareva Ho trovato una stazione abbandonata C'era questo drone Sembrava inattivo Io mi sono avvicinato E sei incazzato E non ti avvicinare Questo mondo è mio Ok Fuoco sul sistema di armamento Il sistema scudi Quindi questo è un canone a Ioni Che fa danno solo sugli scudi Quindi non mi crea molti problemi Ma I motori sono stati danneggiati Perché spari sui motori brutto idiota Ma muori Ce la fai riparare i motori? Sì Tutto ok Ok gli scudi sono andati Gli ho spaccato il sistema di armamento Posso spengere il mio sistema missile E fuori fuoco solo sugli scudi Anzi sui motori Evitiamo che faccia qualche salto Non previsto Ok fuoco Nemico distrutto E il drone guardate Rimane a vagare nello spazio 29 Hacking this station Certo No come no Non è un donno Ma che cavolo Sei inutile Ma che serve Sto equipaggio Quello che mi sei misti E questo che non sa Che era una stazione Ma che Certo che rispondo Andiamo andiamo Allora Ma come no Vai Bene Andiamo andiamo Ti aiuto io Eh fino lì No aspetta Parliamone Come ci arrivo Da qui Da lì Da qui Da qui Ma che ne so Andiamo qui Non so che sto facendo Andiamo qui Vediamo che succede Dove finirò E te pareva Che trovavo i ribelli Che mi aspettavano Invasori 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 Combattente Addosso Combatti Tu ripara Riparati Cioè curati Ok curato Tornati al sistema d'armi Mi serve subito Attivo operativo Ecco mi hanno fatto fuori Il sistema di sicurezza Non vedo un cavolo Ma sto combattente Inutile Tu Adetti ai motori Aiutalo Boost laser Fuoco sulle armi Molto bene Stanno attivando i sistemi Ftl Vogliono scappare Io ti faccio scappare Basta che ci credi Tu vatti a curare Ma Stai tutti e due mezzi feriti Non voglio equipaggi morti Per la mia nave Bene Nemico distrutto Tutta la potenza Tutta la potenza che ci posso mettere Fuori mi si scappa Mi frega niente Tu sei vivo Torna al tuo lavoro E tu Mettiti a riparare il sistema Di sorveglianza In modo che quando arriviamo È tutto bello pronto Bravo Martella Martella Andiamo avanti Mi muovo in questa direzione Verso la quest Ovviamente ragazzi Questa sarà una cosa Molto rischiosa Perché ho i ribelli Alle calcagne Per fare la quest Potrei Finire nel mezzo Del loro attacco Guardate Mi inseguono Persistono Non si fermano Ok Ho trovato Certo Fu almeno due Tra un parto Uno No 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 Posso andare direttamente La quest Molto bene Molto bene Ragazzi Mi è rimasta due energie Sto per rimanere senza energia E la mia avventura Potrebbe finire qui In un modo veramente Brusco e inaspettato Proprio uno schifo Praticamente Ok Tutti sistemi di armi attivati Pronti al fuoco 3 2 1 Tutti i settori Fuoco Tonna che male Che io ho fatto Madonna che male Che male Che male Anche lui mi ha fatto abbastanza male Ma io sono pronto A ripartire Perché il sistema Non ho missili Il sistema Artemis Non va online Perché non ho missili Il nemico Sembra subire E sentire dolorosamente I miei colpi Il nemico riattiva Gli scudi Non si sa come Lui può Lui è un mago 3 colpi a segno Nemico distrutto Ottengo qualcosa Messili Drone part Scrap Niente Mi serviva energia Invece sto ancora qui Ok Vado verso questo settore Spero di poter uscire dal settore Prima che finisca tutto Dammi Dammi qualcosa Sì 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 Oh mio dio Che fortuna ragazzi Ho trovato uno Che mi commerciava Fuel Per parti di droni Via Le do via volentieri Andiamo verso l'uscita Ragazzi Me ne vado subito Da questo settore Già lo odio Non ce la faccio più Via da qui Eh Certo che gli aiuto Che razza di nave è Una specie di bagarozzo Certo che ingaggio La nave pirata Tutti le armi Fuoco Allora puntare armamento Secondario Primario Tutto fuoco 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 Tutti gli addetti Ai posti Tu vai in infermeria Perché servi Bello HP Full Fuoco Fuoco Mamma mia Che male che io ho fatto Io ho penetrato Tutte le armature Tutto quanto Tutto disintegrato Proprio Ok fuoco Fuoco sul sistema Di scrap Sono pieno di risorse Pieno di tutto Non so cosa ho ottenuto Anche quel drone boarding Non so cosa sia Guardate che figata Posso aprire e chiudere Tutte le porte Che bello Vabbè ragazzi Sto per andare Nel prossimo settore Io me ne vado da qui Scappo E ciao a tutti Ragazzi Al prossimo episodio Con FTL In un settore Zoltano Non mi frega niente Civile Zoltano è civile Zoltano è civile Zoltano è civile Zoltano ragazzi Ciao a tutti Al prossimo episodio Zoltano